Ma ti dico la verità, ho cercato di pensarci il meno possibile. Comunque i pensieri c'erano, le emozioni c'erano, non lo nascondo. Ho cercato appunto di pensarci il meno possibile, però alla fine tutti i pensieri erano sicuramente positivi, hanno ripagato, hanno ripagato tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'anno e penso che ce lo siamo meritati. Però non l'hai mai visto così, Mourinho. Non riusciva nemmeno a parlare da quanto era commosso, non l'hai mai visto tu versare una lacrima, è vero? Ha sempre un'altra faccia. No, non l'ho mai visto così.